La polizia ha eseguito tre misure cautelari della custodia in un istituto penale minorile dopo il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta. Gli indagati sono sospettati di avere venduto, ceduto e offerto sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana a diverse persone, alcune anche minorenni a Caltanissetta. L'attività degli investigatori della squadra mobile ha avuto inizio nello scorso mese di marzo. Le indagini di tipo tradizionale e mediante l'uso di sofisticati sistemi tecnologici, grazie anche al supporto delle telecamere della Polizia Scientifica, avrebbero consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre indagati. Spesso gli acquirenti sarebbero stati invitati in una piazza del centro storico di Caltanissetta, da qui il nome dell'operazione è Piazza. Ora i tre giovani sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli interrogatori di garanzia sono previsti nei prossimi giorni.